Oggi il giorno speciale, perché le robe sono rosse e le vede sono blu, il mio compleanno non sarà mai più. E stiamo andando, dobbiamo ancora decidere dove. Prima da Saphir e da Mohamed, dopo obbligatoria. Niente, facendo scala santa. No, tiro più forte. Facendo scala santa. Ok. Fa caldo, fa sete. C'è una macchina. Anche. Bestia sei in piedi. Oggi è martedì 18, non so quando c'era questo video. Andiamo tra i nostri amici del kebab, seduti su Instagram. Lasciamo il tag. Tu lo metti qua il tag. Poi, becchiamo gli altri. Nel PH. Ciao. Ciao. E qua arriva. Ciao. 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 C'è ancora più lento quello. Ciao, non tanto il tempo. tipo ma non ci prende le belci dentro no vai prende la zappa hai visto il cazzo di un astrello vai per la zappa io cazzo andiamo a flippatori dai li ho chiusi li ho chiusi molto oh occhio eh ma cazzo qua c'è un drop li ho fatto quella macchina li ho chiusi oh hai visto dobbiamo andare verso di la qui siamo già andati in strada qua faremo una pista si sarà lungo ma sta divertente siamo a più divertire ed è più divertente molto vai dai aia oh no no si è perso se io ci sarebbe tornare su devi farlo devi farlo ma fare gara che arriva prima giù allora vieni giù dritto punto qua figa il buco oh oh no la strada è praticamente qua poi facciamo proprio sponde eh sponde e salti ma doppiettini piccoli vedremo f*** è qua merda bello veramente bello è morto è morto è morto è morto è morto da è morto Ah, tu dai blocchi Ma quanto è bello il free ride Aspetta! Non c'è un drop qua Uppri qua Oddio! Montana! Sassi! Cazzo! L'interrato! No, la strada! Andiamo di qua! No, ho sbagliato! Mi sono impuntato! Andiamo di qua! Oh cazzo! Non è venuto! Non è venuto! Non è venuto! Che cazzo! Ma che cazzo non è venuto! Ah! Non è venuto! Ah! Non è venuto! Ah! Non è venuto! Non è venuto! Mi sono stessa per bene! Ma ti stai! Peccato che non mi hai registrato! No l'albero! Oddio! 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 Sai che hai fatto? Aaaaah! Io non vado dietro Mattia! Mi ribai al pastore dietro! Ma lo metti subito! Oddio! 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 Proposco! un buco, ma che un po' più grande permesso non so quando ovvita io ovvita io cosa? ovvita io non so non so non so non so perl specially giusto wow Sì, sì, sì. Oh, cazzo! Ok, ok No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.